Io ho visto dei video tra i 50 e i 70 metri e sono rimasto pressoché scioccato Nei 5 anni, diciamo così per semplicità, che ho praticato questo sport in modo estremo quindi ad estreme profondità, ho guadagnato ben 13 episodi di taravana Cos'è il taravana? Un braccio sinistro che non rispondeva ai comandi un'altra volta era un occhio che non vedeva bene un'altra volta era confusione mentale, un'altra volta era disartria che non sarebbe altro che un disturbo della parola, del pensiero per cui tu pensi di dire una cosa e non dice un'altra un'altra volta dei dolori alla spalla, al braccio insomma un po' di sintomi vari però ciò che accomuna tutti questi sintomi è che Prima di continuare con il video volevo invitarti a iscriverti poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacqua che si chiama MSA Controcorrente un brand che gira attorno a noi pescatori subacquei ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su Whatsapp dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi compagni di pesca e location in tutta Italia per accedere basta scriverci Pierluigi Leggeri io ho visto dei video tra i 50 e i 70 metri e sono rimasto pressoché scioccato buonasera intanto e grazie per essere qui come stai? ciao buonasera a tutti bene bene sono qui oggi in questa casa che ho in montagna almeno mi recupero faccio un po' di montagna e un po' di mare dove c'è questa casa? in che zona di montagna è? in Abruzzo in un piccolo paesino dell'Abruzzo di dove sei tu? io sono della più bella città di mare del mondo che sarebbe? Palermo quella per cui si dice vedi Napoli poi muori ah ok allora sei tu di cazzo che figura di merda l'ho capito quella sulla montagna con tutte le casette colorate quella di là che si chiama De Fajanzi perdonami no io sono di Napoli ah pensavo fossi della della costera amalfitana come si chiama? no Corrento lì ce ne stanno un po' ma Amalfi ok e come si chiama quella che ha Positano pensavo fossi di Positano no io no io no Napoli Palermo non voglio non voglio ora stare qui a polemizzare Napoli Palermo dai tutte le due belle sono sì è vero allora io guarda dal momento in cui ho visto i tuoi video come la stragrande maggioranza di tutti i lupi che ho conosciuto ho avuto il piacere di conoscere sono rimasto colpito da inevitabilmente dalla dalla profondità a cui andavi a pescare e dal e da quello che facevi e come ti ho anticipato vorrei capire un po' come tu sei arrivato a fare questo perché la prima domanda che mi sono posto è stata ma perché sto picciotto scende così in fondo? io pure me lo sono chiesto tante volte e quello diciamo la la risposta vera la verità vera è che eh lì è più facile pescare siccome io non mi ritengo un bravo pescatore come invece possono essere tanti altri bravo significa bravo cioè che pesca veramente il pesce a qualunque profondità eccetera allora io mi sono adattato ad andare laggiù dove il pesce è un po' indisturbato o un po' più indisturbato e lì qualche numero lo riuscivo a fare ecco questa è la verità vera poi ovviamente come ci sono arrivato piano piano un po' per sfida personale un po' per un po' per passione quella ci deve essere sempre e un po' per capacità personali che non devono essere secondo me squisitamente fisiche ma anche psichiche se vogliamo allora piano piano mi sono avvicinato a queste profondità e poi ho rotto l'indugio quando un mio carissimo amico calabrese che andava sempre a pesca a traina fuori da un paesino della calabria che si chiama cetraro mi disse mi continuava a dire ah io qui a queste profondità a 60 50 60 metri prendo un sacco di pesce un sacco di denti eccetera eccetera allora io stimolato da questo e ho detto va bene ma allora io ci vengo in apnea e lì è nata questa cosa e io un giorno abbiamo fatto questa prova e io ci sono andato ho pure preso un pesce se vogliamo di quelli che lui vedeva e catturava con la traina e da lì abbiamo conosciato questo mio amico e poi siamo rimasti tanto amici lui si chiama Gianni è un bravissimo pescatore sia canna che pesca subacquea e e niente e lì è cominciata un po' questa avventura che è durata ecco 5 anni forse fino al 2018 ok 5 anni significa che non hai cominciato a pescare suppongo no ovviamente io ho cominciato a pescare alla tenera età pescare inteso come apnea andare a mare fare questi primi esercizi giochi eccetera all'età di 8 anni in compagnia di mio padre che ha piantato il seme no eh di questa passione e quindi io tutte le stati che passavo in Calabria da da sempre però in particolare dall'età di 8 anni eh mi cimento a fare questo tipo di attività che poi diventa veramente un'attività semi professionale eh eh a proposito di professione Pierluigi di che cosa ti occupi nella vita tu o di cosa ti sei occupato nella tua vita fino ad oggi io sono più o meno sempre stato eh un impiegato di una banca eh fino a una decina dozzina d'anni fa ero eh un responsabile il vice direttore degli acquisti eh di questa banca poi le cose sono andate male come spesso accade e e quindi niente poi ho dovuto continuo a lavorare per questa società però non più con questo ruolo un po' più altitonante e quindi faccio il mio lavoro e così via però questo non è al momento un qualcosa che mi appassiona più di tanto eh come mi appassionava invece fare il cacciatore subacqueo ok appassionava perché sì appassionava perché eh non lo faccio più o comunque non vado più a pesca a quelle profondità un po' estreme eh perché eh nei nei cinque anni diciamo così per semplicità che ho praticato questo sport in modo estremo quindi ad estreme profondità eh ho guadagnato ben tredici episodi di taravana ehm cos'è il taravana? taravana ecco eh mi aspettavo questa domanda il taravana è una sindrome viene definita così sindrome del taravana eh che è tuttora studiata eh da numerose persone eh per esempio è studiata dai ricercatori della Dan Euro ehm ma che cosa si sostanzia si sostanzia in una mh problematica che può essere temporanea o definitiva che affligge il cervello quindi eh tu fai una serie di immersioni ripetute di immersioni eh in profondità e se sei abbastanza sfortunato diciamola così eh durante una di queste immersioni eh risali eh risali chiedo scusa con un deficit eh di qualcosa a me è successo per tredici volte e in tredici volte eh mentre facevo sostanzialmente questa pesca subacquea estrema eh tredici volte risalivo con un problema con un deficit che una volta era un braccio sinistro che non rispondeva ai comandi un'altra volta era un occhio che non vedeva bene un'altra volta era confusione mentale un'altra volta era disartria che sarebbe altro che un disturbo della eh della parola del pensiero per cui tu pensi di dire una cosa e nessun'altra capito oppure ehm un'altra volta insomma episodi di questo tipo un'altra volta eh dei dolori eh alla spalla o al braccio insomma eh un po' di sintomi vari però ciò che è comune a tutti questi sintomi è che eh il danno è definito centrale cioè non hai un problema al braccio perché ti fa male il braccio perché il braccio non risponde ma hai un problema al cervello nella parte eh nell'area che comanda quel braccio ok quindi ecco ora questo problema normalmente è transitorio quindi è eh un attacco ischemico transitorio TIA si definisce altre volte è un vero e proprio eh infarto cerebrale un ictus ecco io di questi tredici episodi ho collezionato tre di questi ictus anche se eh vedo diciamo sembro funzionare così bene alla fine a livello psico cognitivo qualche cosa che non funziona più tanto bene ce l'ho quindi quindi tipo niente è tipo che ne so ad esempio la mia memoria di breve non funziona bene la memorizzazione di come si come si fa eh una procedura eh non riesco a memorizzarla ok la capisco ma non la riesco a memorizzare e poi eh sono cronicamente distratto cosa che accade al più delle persone che sono stressate ma a me è proprio una cosa diciamo eh come dire residente in me ok e cose di questo tipo in buona sostanza ok ok tipiche dei danni frontali eh della corteccia frontale fammi capire una cosa ehm non sono almeno non ho degli strumenti per misurare se la quantità di questi accadimenti è sproporzionatamente alta o è nella norma eh qual è la tua esperienza in merito ne hai avuti particolarmente tanti allora ehm io riguarda pescatori che chiaramente pescano come te quando pescato come te c'è un problema allora come come me che pescano che pescavano o pescano alla alle profondità mie di esercizio io non ne ho conosciuti molti anzi in realtà ne ho conosciuti molto pochi eh e comunque ehm eh chi eh chi è diciamo eh ben dotato tra virgolette eh psicofisicamente per cui riesce a fare questa pesca così profonda tipicamente è comunque un professionista o uno che fa le gare quindi eh io ne ho conosciuto i diversi queste persone che fanno le gare e che sono poi eh diciamo costantemente monitorati e devono avere l'autorizzazione eh il benestare da medico eh da parte della federazione tipicamente tendono a nascondere questi episodi ok capito o a farli passare peraltro questa è la mia esperienza eh per cui una statistica io ho anche provato a fare un progetto dove raccoglievo dei dati per capire alla fine un po' di più di cosa fosse questa sindrome eh in collaborazione con Apnea Academy Umberto Pelizzari e in collaborazione con Dan Europe eh ma alla fine non siamo riusciti a far granché proprio per questa reticenza che c'è ok ok purtroppo non eh e invece tu personalmente i dottori ti hanno diagnosticato una particolare propensione eh no io sono perfettamente normale eh almeno per quelle che sono le conoscenze mediche io ho fatto veramente di ogni io ho fatto veramente di tutto eh ma non non mi è stata trovata alcuna predisposizione eh quindi la cosa è ancora più inspiegabile capito magari tra dieci anni ma c'è anche eh scusate perdonami ti interrompo c'è anche un'altra considerazione da fare che per quanto io possa dire che questo è un fenomeno studiato eh non siamo ai livelli di studio di delle problematiche che possono occorrere alla subacquea classica ricreativa o alla subacquea tecnica i cosiddetti bombolari no per esempio perché lì la subacquea tecnica conta molti più ehm molti più partecipanti eh molti più federati molti più paganti no eh dei noi i quattro spiccioli eh appneisti o pescatori per cui eh il numero sarà da uno contro dieci o uno contro cento per cui è ovvio che non ci sono proprio neanche i budget necessari a definire una ricerca seria su questa su questa cosa perché siamo troppo pochi ci sta capito e quindi e quindi è difficile dare delle risposte è difficile dare delle risposte ehm hai provato a dartele delle risposte in merito sul perché queste cose ti erano certo è uno dei due casi in cui si può dire la risposta è dentro di te solo che è sbagliata no cioè no scherzo però eh ho provato a capire ma non ho grossi elementi francamente ho parlato anche con un po' di persone anche con il grandissimo Herbert Nietz eh che tu conoscerai ehm ci ho parlato quello l'apneista più profondo del mondo quello che è andato alla profondità maggiore nota oggi come apneista e che ha avuto lo stesso problema un brain stroke eh in risalita dopo un tuffo a 240 e passa metri capito quindi abbastanza giustificato eh ma lui mi ha detto che comunque durante la le sessioni di pesca in apnea eh gli capitava di avere questo problema capito e allora eh eh diciamo era un po' come me io poi non ho mai fatto esercizi estremi di apnea cioè eh qualche discesa di allenamento con la slitta fino a a 100 110 metri eh ma non ho non mi sono messo a fare cose più particolari eh mentre lui invece è andato giù pesante lui era più apneista puro no? sì ecco eh ecco questo è un po' la storia allora io capisco capisco che chiaramente è complicato dare una motivazione a quello che è accaduto ehm però i linee di massima rispetto a quello che si sa se voressimo generalizzare con le perché il taravano accade cosa cosa mi diresti? si sa spesso rispetto ai tempi di io ho capito questo io ho capito questo che eh diciamo facendo una panoramica e una media di tutti i pareri del mondo eh ho capito che questo è un fenomeno che accade se eh non se fai uno due tuffi profondi ma se fai dei tuffi ripetuti eh ovviamente non tre ma se ne fai di più eh soprattutto se sono profondi cioè oltre una certa profondità almeno 40 50 metri almeno e se eh i tempi di recupero in superficie non sono ehm non sono dilatati quindi se io faccio dei tuffi che sono ripetuti a con poca distanza tra di loro è più verosimile che incappi nel problema e e poi tutte le altre considerazioni all'atere tipo devi essere comunque idratato devi mangiare eh bene come si deve non deve avere altre problematiche in giro per il corpo insomma devi stare in buone condizioni fisiche ecco wow questo la pesca in appena a Pierluigi per arrivare a quelle profondità era importante per te molto importante io avevo costruito proprio un eh mi piaceva dire un personaggio no perché alla fine era una cosa in cui credevo anche se era uno sport molto di nicchia però mi mi faceva sentire come dire bene distinto diciamo e e quindi mi appassionava molto eh ma come per riagganciarmi al discorso di prima eh poi nel 2018 agosto ebbi eh un ulteriore incidente eh l'ultimo eh di quei tredici in Tunisia e mh mentre tenevo un workshop di pesca in apnea profonda e mh e niente e lì eh rientrato ho fatto cinque cinque giorni di ospedale in Tunisi ricoverato al reparto di neurologia cosa che auguro a pochi e e dopodiché sono rientrato in Italia e lì mi sono risottoposto a tutti i controlli del caso compreso il controllo di un neurologo eh il mio neurologo quello che mi ha sempre seguito e che mi ha sconsigliato di vivamente di prendere un quarto ictus altrimenti eh l'esito sarebbe stato ehm come dire molto a favore di un deficit permanente ad esempio una gamba che non funziona più un braccio che non funziona più un occhio che non vede più una parola che non funziona più bene e così via questo eh dal mio punto di vista non era accettabile non era il caso morte se possiamo dirla era accettabile perché quando uno fa uno sport estremo eh diciamo deve necessariamente mettere in conto che una volta può andare male no? eh ma il caso di eh non rimanerci e invece avere un arto offeso per il resto della vita quello è un discorso molto diverso capito quindi ho deciso di mollare anche perché eh nel frattempo stava nascendo in me un'altra passione sempre legata alla subacquea e è sempre legata a un qualcosa eh che si cattura tra virgolette che era la fotografia subacquea che ho iniziato a fare in apnea ehm in apnea ho iniziato a fare nei posti dove non si poteva pescare che ne so alle Maldive oppure in Mar Rosso eccetera ma poi ho cominciato a farla sempre più seriamente eh appassionandomi e ho per così dire mh dovuto convertire il il personaggio pescatore estremo in un nuovo personaggio ehm sempre abissale se vogliamo perché eh alla fine il pallino della profondità anche se fatta con altri mezzi quello c'è sempre eh però eh con un altro scopo quello di fare eh la cattura fotografica eh piuttosto che la cattura materiale di un pesce eh che ha delle cose che convengono rispetto alla pesca eh no ad esempio una bella immagine una bella fotografia eh eh se vogliamo è equivalente a un pezzo d'arte certo è un qualcosa che tu puoi appendere come un quadro eh rimane lì e non si eh diciamo non si consuma eh non butti gli avanzi il giorno dopo no capito e non uccidi nessun animale eh sono diventato anche di cuore tenero nel frattempo quindi eh come ti ha fatto stare questa cosa questa transizione come l'hai vissuta ma all'inizio non è che l'abbia vissuta benissimo perché lì eh come con il berretto del del pescatore in apnea avevo comunque fatto i miei numeri e eh eh diciamo e le mie conquiste eh mentre con il berretto da fotografo subacqueo o eh artista fine art perché alla fine il genere che faccio io eh definibile fine art fine art eh photography eh e eh diciamo questo berretto era tutto da sperimentare da da verificare eccetera come era da conquistare da conquistare tutte le altre modalità di discesa a partire dalle bombole a poi oggi il rebreader oggi io utilizzo il rebreader sono brevettato con quella metodologia eh e questo eh mi dà una serie di vantaggi per poter fare il mio mestiere di fotografo artista subacqueo questa tipologia di fotografia di cui parli cosa ha di particolare ripetimi il nome eh allora io eh faccio eh una fotografia che si può definire fine art cioè una fotografia che è tra virgolette libera cioè io scatto una foto che non ha un intento eh documentaristico documentativo no ma un intento più artistico più di raccontare magari un un umore un sentimento un eh una situazione in modo diverso eh da non eh documentare una scena che vedi sott'acqua o un soggetto illuminato correttamente tecnicamente con tutte le a regola d'arte insomma no qual è uno dei messaggi che vuoi far passare attraverso il tuo lavoro più di tutti ma eh allora ci sono diversi messaggi quello quello più importante se vogliamo più alla moda è più necessario secondo me è quello ambientale perché andare sott'acqua e eh viversi eh l'immersione subacqua in qualunque modalità apnea eh bombole rebreeder eh subacqua tecnica ricreativa in qualunque modalità ha comunque un fascino incredibile per poter fare questo eh c'è bisogno sì di tante esperienze ma c'è bisogno anche dell'ambiente marino più sano possibile quindi conservare l'ambiente come lo troviamo è uno dei principali eh una delle principali diciamo missioni ehm sì eh è uno dei principali anche doveri che abbiamo no? ok immaginate di andare un giorno in mare e non ci sono più pesci o non c'è più una specie di pesce eh no oppure uno va al mare per esempio in Mar Rosso si trovano spesso tartarughe marine eh uno va al mare e non trova manco più una tartaruga marina perché eh si sono estinte purtroppo non è neanche un una idea così eh peregrina eh ci sono degli animali marini che sono in pericolo di estinzione ad esempio eh se parliamo di stock ittici eh il famoso tonno rosso dell'Atlantico che poi viene e si fa il giro del Mediterraneo per riprodursi gli stock di tonno rosso secondo le ultime stime che ho letto si sono ridotti del 90% eh non eh al 90% ma del 90% cioè di 100 tonni ne sono rimasti 10 allora eh è ovvio che se continuiamo così eh andiamo a finire male no? eh questo certo che dal dall'andare a pescare pesce al discorso che mi stai facendo adesso la strada è stata lunga sì è stata lunga perché ma subentrano tante tanti aspetti ehm tanti aspetti eh non ultimo quello della della morale e della coscienza che ognuno di noi si deve far eh venire no? eh allora io come pescatore non sono mai stato spregiudicato cioè eh io ad esempio una delle regole che mi ero dato sulla caccia oggi sto facendo un progetto fotografico eh sto per pubblicare un progetto fotografico sulle cernie no? un delle regole che mi ero dato era di eh prendere eh solo eh una due cernie su eh un certo numero che vedevo durante la giornata di pesca ok per esempio una su cinque d'accordo? come mi capitava di vederne anche cinque sei nella giornata io mi ero dato questo questo limite oltre a tutti gli altri di limiti cioè eh i limiti dimensionali limiti eh poi la cernia come sappiamo tutti quanti credo è eh ermafrodita cioè eh diventa maschio eh dopo circa dodici anni dopo un certo peso anche e e quindi eh eh come dire eh uccidere un esemplare più piccolo non che io abbia fatto catture tutte di cernie giganti però eh catturare un esemplare piccolo significa comunque catturare una femmina e catturare una femmina significa poi limitare la quantità di cernie che vengono poi eh ehm fatte nascere in una volta soggettiva no? ecco eh questo ad esempio poi mi ero dato anche la limitazione di non pescare polpi ma questo più per un fatto di affinità a me il polpo è un animale che sta molto simpatico eh e e che pur fin troppo facile da catturare e quindi mi sono detto ma non è così sfidante alla fine e quindi che lo catturo a fare credi che questo sia subordinato al fatto che di pesci tu ne abbia preso tanti o è sempre stato un po' così? no è sempre stato un po' così pesci tanti non ho mai presi proprio tanti eh perché eh 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 in primis non 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 mi è mai servito di prenderne tanti e non sono uno che vende il pesce ad esempio per vivere eh e in seconda istanza perché alla fine eh mi sono sempre dato la regola che è utile ammazzare tanto pesce eh quella quantità giusta che mi consente di eh sfamare me conservare il pesce che avanza e magari invitare qualcuno a pranzo a cena e mh e terzo e ultima considerazione è che comunque come dicevo all'inizio io non ho non sono mai stato un un killer capacissimo per cui in qualunque eh diciamo ambito eh andassi potevo fare eh eh diciamo la 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 strage del caso non 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 sono un pescatore capacissimo secondo me e quindi più volte eh actually eh hai detto che due due volte hai detto hai parlato di di personaggio personaggio della pesca in appena profonda e poi personaggio eh che stai costruendo nel tempo in questo altro settore perché parli di personaggio qual era il tuo obiettivo che cosa cosa avevi in mente eh e che importanza hai dato a questo aspetto della tua vita ma dunque io eh domanda curiosa io parlo di personaggio perché eh mi piacciono un po' questi film di eh così di avventura oppure film fantasy insomma eh e quindi eh mi piace riferirmi a a me delle volte come ad un personaggio che recita una parte che è un qualcuno di specifico dopodiché eh più concretamente parlo di personaggio perché quando uno è appassionato veramente di un qualcosa tende ad immedesimarsi veramente in quel qualcosa e a diventare quel qualcosa in modo genuino quindi tu non sei più scindo non sei non sei più uno che fa quel mestiere tu sei quel mestiere no? al di là se lo fai in modo professionale o se lo fai in modo amatoriale nel tempo libero no? la la misura è data da quanto tu credi in quello e allora per me eh che ci credevo tanto essere un pescatore eh profondista che faceva certi numeri era essere quel personaggio identificarsi in quella persona oggi eh non mi identifico più in quel personaggio ma mi sto identificando in un altro sempre perché metto tutto me stesso in questa nuova passione che è quello dell'artista fotografo subacqueo ehm e cerco di diciamo evolvere più velocemente possibile in questo e magari un giorno farla diventare una vera e propria professione è il sogno nel cassetto il sogno nel cassetto esatto dopo un bel percorso di vita eh eh prima qual'era il sogno ma ma ehm ma non lo so eh io sono stato sempre un po' così come dire un po' sognatore eh ma lì eh mi sarebbe piaciuto eh fare eh una serie di eh attività eh come dire più specifiche nella fisca in apnea è per esempio io nella eh nell'ultima fase di questa eh come dire di questo di questa esperienza ok di questa esperienza avevo stavo pianificando con un mio caro amico tunisino stavo pianificando di fare un record di pesca profonda in apnea non esistono i record di pesca profonda in apnea eh esiste qualcosa tipo un Guinness dei privati dei primati di pesca in apnea perché non è che eh la pesca in apnea profonda non ha eh delle degli standard eh che consentono eh che le consentono di essere di avere un'omologazione per così dire no? Ci sono troppe variabili non è come salire scendere in profondità su un cavo guida ehm quindi diciamo lì ehm lì era un po' come dire andare su un punto e fare la cattura più profonda mai registrata magari con dei testimoni eh che poi potessero attestare sia la cattura avvenuta sia sia tutto il resto insomma l'organizzazione qual è stata la tua cattura più profonda? Ma allora eh non me lo ricordo ma una cosa me la ricordo eh su un relitto in Sardegna che avevamo era un periodo in cui andavo a pesca con Salvatore Roccaforte trovammo questo relitto non ricordo più neanche esattamente dove fosse ma era un relitto molto profondo credo fosse una nave ehm da da guerra eh perché era molto stretto lungo filante insomma oppure addirittura un sommergibile e diciamo dalla eh dalla minima profondità di 69 70 metri scendeva fino a 82 ecco allora lì eh ho fatto qualche tuffo eh sul appunto sul relitto e lì ho sparato ad un dentice anche abbastanza grosso eh sbagliandolo a 71 metri eh questo è stato forse eh la mia il mio liscio più profondo per il resto spesso molto molto spesso ho catturato pesci vari c'era anche un altro relitto dove andavo spesso a pesca che era Lenory Desprez eh in Calabria e lì eh ho catturato sia cerni che dotti che dentici ha ha anche a 60 62 metri di profondità ecco questo e poi non ricordo insomma è vero che registravo un po' tutto però poi la memoria non mi aiuta come dicevo poc'anzi e quindi eh dire cosa Pierluigi questa questa tua nuova passione che controindicazioni ha rispetto ha delle controindicazioni rispetto ai problemi che si sono venuti a generare quale quale passione questa dell'immersione con quella con le bombole o con ah no perché allora le controindicazioni dell'immersione fatta in altri modi più studiata quindi con altre modalità quindi le bombole oppure il rebride eccetera sono le le solide e note pure quindi le embolie di tutti i vari tipi eh e così via fondamentalmente eh la cosa e quindi eh e quindi la la cosa che ti può succedere se sbagli una delle procedure che però ripeto sono molto studiate e codificate eh se sbagli di queste procedure può incappare in una malattia da decompressione però eh che poi può avere vari livelli di gravità eh per carità però eh non siamo più soli cioè eh queste sono eh diciamo eh procedure che sono note rinote studiate e lavorate anche perché la subacquea è anche una subacquea professionale quindi dove ci sono dei sub professionisti che lo fanno proprio di mestiere e quindi con tutto i tutti i pro che si portano dietro cioè se ci sono subacquee di mestiere vuol dire che c'è un'assistenza medica scientifica dedicata e quindi qualcuno che eh poi ci sono anche ricerche di tipo militare perché anche la subacquea è militare e e quindi capite bene che mh l'infrastruttura dietro è più solida c'è un'infrastruttura dietro mostruosa rispetto all'appneista col costumino che va a fare il record cioè è molto diverso proprio c'è una potenza economica dietro un paio di giorni fa mio fratello è nell'ambito della ricerca della sensibilità della pelle e della percezione dell'umidità sulla pelle ed è uno dei pochi al mondo che fa questo e in una conferenza che ho avuto di recente a Londra c'era un tizio non mi ricordo il nome mi ha mandato l'articolo dove hanno da tempo cominciato a effettuare gli studi che gli appneisti professionisti hanno cominciato a studiare gli appneisti professionisti che tipo di problemi a lungo termine hanno nella vecchiaia rispetto a tutto quest'ambiente e ci sono un sacco di studi che stanno uscendo si discuteva se si riusciva a trovare insomma modo di organizzare una chiamata con questo ricercatore che secondo me sarebbe interessante discutere di diciamo tutto quello che non sappiamo e che stiamo faceggiando mischiando l'inglese e l'italiano e che ignoriamo tantissimo quindi ci saranno sicuramente grosse contraindicazioni che ignoriamo ma che stanno venendo fuori Pierluigi tu ci sei tornato in certi posti dove tu ci scendevi in apnea con l'autorespiratore ce l'ho appena accennato con un altro amico caro che ho conosciuto da qualche anno esperto subacqueo di subacquea propriamente detta quindi uno che va giù con le bombole profondo conoscitore di questo relitto in Calabria Harry Vesprez sono sceso varie volte con lui io con il mio Rebreeder lui con le sue bombole e con le sue attenzature siamo andati in esplorazione il Rebreeder è uno strumento è un respiratore a circuito chiuso che ti consente in buona sostanza ti vado sul risultato finale ti consente di respirare sotto acqua senza fare bolle ok poi non mi metto a spiegare la cosa abbastanza complicata no no chiarissimo se no siamo una mezz'ora no però è una roba mentre il circuito aperto è quello normale che tu respiri dall'erogatore butti fuori l'aria e fai le bolle circuito chiuso no rimane tutto dentro e quindi è anche uno strumento ideale per non spaventare il pesce diciamo a me piace dire che l'evoluzione dell'apneista cioè uno sta sott'acqua in silenzio e quindi non spaventi il pesce non fai questo e quindi questa roba l'ho vista ai militari letteralmente esatto prima anche questa è di derivazione militare poi è stato studiato migliorato insomma oggi i rebreather attuali sono molto molto affidabili e sono per certi versi anche migliori come usabilità del bombole ma di quanti soldi stiamo parlando per un'attrezzatura del genere lo vuoi sapere no l'attrezzatura del genere dipende la compri a tutte le a tutti i prezzi tra virgolette però una nuova attrezzatura per esempio quella che ho comprato io l'ho pagata alla fine circa 10.000 euro mega è uno dei rebreather migliori per qualità prezzo che c'è sul mercato capito ok lo so figata costa costa tanto però ha le sue convenienze e invece in un altro giocattolino sicuramente era un poco dispendioso che videocamera hai che attrezzatura io utilizzo una io utilizzo una sony alfa 9 è una mirrorless ok di ultima generazione oggi c'è la sony alfa 9 2 e la alfa 1 che sono della stessa casa produttrice ma migliori della mia e lo scafandro che utilizzo io è di una ditta italiana si chiama easy dive che fa attrezzature specifiche per diciamo per rendere scafandrabili scafandrate le attrezzature fotografiche per andare sott'acqua e quindi io utilizzo questa roba qui e fai soltanto fotografia e faccio solo fotografia si come mai come mai non anche il video ma no è una scelta è una scelta di comodo perché facendo io quel tipo di fotografia di cui magari poi a valle di questa chiacchierata lascio il diciamo l'indirizzo del mio profilo instagram e del sito che ho pubblicato facendo un tipo di fotografia un po' particolare quindi con con una postproduzione che la rende artistica diciamo così quindi non documentativa non mi interessa fare non riuscirei credo a fare un video nello stesso stile e quindi e quindi non faccio video ok quello fondamentalmente il motivo non perché non mi interessa ma non non comunicerebbe alla stessa maniera non faccio il genere esatto non non riuscirei a fare lo stesso genere che intendo fare ok qual è uno dei tuoi scatti che ti è piaciuto di più dacci uno spoiler video così poi ce l'andiamo a guardare e perché questa è una domanda troppo difficile uno dei mie scatti io amo tutti i miei scatti quasi però allora uno degli scatti che ho fatto in apnea alle 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 canarie qualche diversi anni fa su due balene pilota mamma e figlio e cucciolo una che allatta l'altro e il cucciolo è grosso quasi quanto la mamma questa è stata una bella un bello scatto simpatico da fare era la prima volta che vedevi delle balene delle balene pilota sì e poi cos'altro poi ho fatto poi un altro bello scatto che ho fatto sempre in apnea in Tanzania agli squali balena con uno stile che è più un mio stile quindi molto dark per così dire forse stai mettendo il dito nel microfono tu no 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 tu hai messo il forse tu hai messo il dito nel microfono un paio di volte dicevi che sei state in Tanzania a fotografare questi squali balena ho fotografato gli squali balena in Tanzania in un'isola non turistica si chiama Mafia Island quella è stata un'altra bellissima avventura anche lì fotografia in apnea per motivi pratici e ho qualche scatto anche quello pubblicato sul mio sito e poi cos'altro con invece con con il rebreather ho fatto parecchi altri scatti ma i più belli sono degli scatti macro che non che non saprei descrivere perché poi a me piace anche questo lo facciamo questo sarà un invito ad andare a guardare il profilo di per lui questo è un invito andare a vedere il mio sito mi farebbe molto piacere sono degli scatti un po' astratti per così dire delle texture cosa che si capisce e non si capisce cioè l'idea che non si debba capire subito che cos'è ok però che il cui insieme è comunque piacevole per coloro che apprezzano per gli altri magari e quindi il gioco di colori di luce insomma sono delle foto macro super macro molto ravvicinate insomma che fanno un bel effetto ultimamente ho fatto parecchie di queste sia in Marrosso che in Thailandia dove sono stato a Phuket lì ho fatto parecchie di queste e niente queste però sono molto recenti quindi ancora non sono pubblicate sul mio sito né sui social però insomma ecco un po' questa è la mia storia dimmi quanti anni hai? non mi ricordo se te l'ho chiesto no 52 52 non so che non si vede se ne ho 15 però 19 però soprattutto dalla base però dimmi una cosa Pierluigi cazzo diciamo che come si dice a Palermo dico più spesso e volentieri quattro fili te li si è mangiati hai vissuto tante esperienze sì a chi è che si avvicina alla pesca subacuea in Apnea che cosa gli diresti? eh dipende dipende da quali sono le intenzioni di questa persona se le intenzioni di questa persona sono quelle di eh anzi allora una cosa alla base di tutto poi facciamo questa distinzione che stavo per recitare alla base di tutto c'è eh la consapevolezza di quello che si sta facendo quindi non buttarsi in modo improvvisato a fare la pesca subacquea no? basta fucile pinne un paio di occhiali e una muta no bisogna avere il know-how giusto quindi frequentare un corso e eh possibilmente un corso di apnea perché il corso di apnea ti dà gli strumenti ehm diciamo eh di know-how e gli skill giusti per poi applicarli a quella che è la pesca in apnea quindi prima di tutto fare un buon corso di apnea secondo poi eh si può prendere il fucile in mano prendere il fucile in mano eh il che è sempre un'arma è un giocattolo eh però è pericoloso eh con questo bisogna poi chiarirsi ed è se si vuole eh andare verso un livello di bravura eh professionale o semiprofessionale eh allora bisogna acquistare nuove consapevolezze e fare tanta esperienza e non strafare mille prove io prima di fare gli esercizi che facevo ho fatto eh almeno trenta trentacinque anni di pratica della pesca in apnea partendo da otto anni no fino a tutto il resto e ho fatto ovviamente i corsi d'apnea eccetera eh non mi sono improvvisato eh così consiglierei di l'improvvisazione poi se ehm se si vuole raggiungere invece risultati di eccellenza eh e fare avvicinarsi anche alla parte estrema di questo sport tipo quello che facevo io quindi la pesca a grandi profondità eh bisogna ancora di più ehm eh acquisire competenze e farsi guidare possibilmente frequentare quelli più bravi andare insieme a loro questo lo dico come come aspetto pratico no? perché lì poi si guadagna eh consapevolezza anche dopo il racconto no? E eh l'ultima cosa che raccomando è eh l'attenzione alla sicurezza non è una stronzata eh stare eh preoccuparsi tutti quegli accorgimenti a partire dal pallone segna sub che tutti sanno che eh eh pochi barcaioli eh vedono pochi barcaioli diciamo sono consapevoli eh del significato e al fatto di andare con un compagno e di fare le immersioni possibilmente eh modo alternato no? eh io eh facendo in questo modo ho avuto a salva la vita eh in un'altra in un altro episodio e poi faremo e vi racconterò questo però però io sono vivo perché un mio amico nel millenovecentonovantatré mi salvò la vita mentre facevo eh pesca in profondità se diciamo a 40 metri e sono andato in sincope e sono stato recuperato da questo mio amico quindi eh fare in modo eh alternato prima te poi io prima te poi io può sembrare una perdita di tempo ma in realtà è un guadagno sulla sicurezza che è importante e e basta poi per quanto riguarda quello può capitare anche e invece per quanto riguarda il mondo della fotografia subacquea a chi è che si sta avvicinando cos'è che diresti ma eh direi eh non non fate come ho fatto io che eh ho cominciato senza avere nessuna base di fotografia eh e eh facendo direttamente la fotografia subacquea con una GoPro no e poi ho faticato molto per Evolvermi no eh bisognerebbe avere eh in modo distinto due basi per fare le cose in modo corretto eh avere le basi di fotografia facendo la fotografia che fanno tutti fuori dall'acqua d'accordo e poi avere eh delle competenze da subacqueo abbinare poi le due cose significa poter fare una buona fotografia subacquea che abbia subito successo sì ci sta sai a proposito proprio di questo io riflettevo sul fatto che non so gestire la mia fotocamera totalmente eppure guarda un po' tu pensavo di comprarmi lo scafando tra me dicevo mica ma se io già non so usarla fuori dall'acqua ma figurati andarla a fare in affenea dico però sì è un ragionamento ma sai perché perché poi rischi che gli errori che commetti si cronicizzano e tu non ne esci più sì capito invece se tu sai fare fotografia fuori dall'acqua per bene o abbastanza bene poi farla sott'acqua diciamo cambia poco cambiano solo alcuni parametri a cui bisogna stare attenti cambia le scafandrature le questioni sulle luci sull'illuminazione eccetera però alla fine se hai le regole di base le puoi ripetere sott'acqua se non c'è le regole di base sopra è difficile poi diventa complicato imparare tutto insieme sì sì Pierluigi è stato un piacere è stata una chiamata molto intensa io ancora cioè neanche penso vedi tu hai detto vabbè sì 13 taravana e peraltro ti hanno pure recuperato minchia ma cazzo complimenti ho un po' di esperienza al punto di vista subacquo in effetti è figo e cazzo questa cosa secondo me tu dovresti metterla su carta in qualche modo se già non ci stai pensando magari ci stai pensando lo so per adesso l'ho messa per adesso l'ho pubblicata sul sul mio sito come come diciamo un piccolo abbio no ok ok tra tra le foto via guarda è proprio perché come più spesso hai menzionato c'è così tanto poco studi e poca informazione nel nostro settore secondo me sarebbe uno di quei lavori che diventerebbe presto e subito un evergreen e basta perché comunque tanta roba tanta roba grazie io ti ringrazio e niente poi per chi fosse interessato io lascio a te che puoi pubblicare sotto al video i miei riferimenti per 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 il sito internet e tutti i social dove compaio ok perfetto grazie buona serata ciao buona serata a tutti ciao ciao